Continuum bellum, l'operazione antidroga dei carabinieri di Castellamare di Stabia e dello squadrone li portato cacciatori di Calabria lascia per qualche ora i lattari e si estende alla Vellinese nel territorio del comune di Lioni. La via della marijuana arriva fino ai pendii dell'Alta Irpinia, è lì che i carabinieri hanno scovato tre serre artificiali al cui interno erano in coltivazione 453 piante di cannabis indica di 150 cm l'una, 49 già in fase di essiccazione, 800 g di erba già pronti al confezionamento. Nelle serre sei persone come in un laboratorio in piena attività, sono finite tutte in manette, padre e figlia di origini napoletane ma residenti a Lioni e tutti gli altri di natalità albanese. L'operazione non si è limitata a questo, a pochi chilometri nella contrada civita superiore di Teora i militari hanno scoperto una piantagione di cannabis sviluppata su tre ampie piazzole, 2100 circa le piante coltivate verosimilmente messe a dimora nello stesso momento perché tutte alte circa un metro. i fursi sono stati campionati e poi distrutti, per cinque arrestati si sono aperte le porte del carcere di Bellizzi, per uno è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.